Attenzione, UAV in uscita dall'area operativa. UAV alleato online. Contratto fallito, hai esaurito il tempo. Contratto dal movimento qui. Granata, muoversi! UAV nemico attivo. Granata, lanciata! Il tuo compagno è finito nel Gulag. Dovrà abbassersi per tornare in campo. Richiedo un attacco. Arriva il nostro attacco con mortaio. Posizione marcata! UAV nemico in zona. Il tuo compagno ha perso. Tornerà dritto alla base. Arriba il gas. Marco la nuova zona sicura. Fille in volo. UAV nemico attivo. Qui c'è un contratto Il nemico ha schierato un UAV di disturbo Contratto caccia, qui Ora il tuo compagno è nel Gulag Se sopravvive, tornerà in azione L'obiettivo è eliminare tutti i bersagli UAV nemico in zona Il tuo compagno ha fallito e sta tornando alla base Temici in questa zona Il tuo compagno è il tuo compagno Occhio, questa zona scotta Nemico nell'area Bombardamento alleato in arrivo Contatto! Vedo movimento Vado qui Grazie a tutti! Grazie a tutti! Contratto fallito. Tempo scaduto. Mi sparano addosso. Vado qui. Il gas si avvicina. Nuova zona sicura localizzata. Il bastardo è andato! Ti rimetto subito in piedi. Cassa di protezioni qui! Di nuovo! Cassa di movimento! Dirigiti alla zona sicura. Vado qui. Fu avvi nemico in zona. Fu avvi. Isparano! C'è attività nemica! UAV nemico in volo! L'occaso è finito. Ora è una città fantasma. Minaccia in zona! Movimento! Qualcuno ha saccheggiato! Nemico contatto! Stile localizzato! Gassi in avvicinamento. Nuova zona sicura. Attacco con mortaio ostile nell'area. Tiro una granata copagena! Mi hanno preso di mira! Gassi in avvicinamento. Affrettati verso la zona sicura. Sei tra gli ultimi venticinque. Bel lavoro! Movimento qui! Un'altra carica perforante! Oh! Porca puttana! Piastare coralti! Isparano addosso! Ci sono! Piusciti alla costa di attacc source. Gassi in avvicinamento. Raggiungi la zona sicura. Mi lancio in zona In movimento Annullare Lancio un fumogeno Mi stanno addosso Finisci il lavoro Arriva il gas Marco la nuova zona sicura Ne erano rimasti meno di 5 La prossima Compagno tornato in campo Ben fatto UAV nemico attivo Accoccia baccata Forze sono in arrivo Soldato nemico in arrivo Mi servono colpi di medio calibro Un compagno è tornato in squadra Ben Un problem Non rispicio Non rispicio Menciutto Il volto Ben UAB di disturbo nemico attivo Il nemico ha schierato un UAB di disturbo UAB di disturbo nemico attivo Gatti in movimento Vado qui UAB nemico in zona Servono colpi di medio calibro Il tuo team è nella zona sicura Nemico in arrivo nell'area UAB nemico in volo Nemico in movimento Movimento Vado qui UAB nemico in volo UAB nemico in volo UAB nemico attivo UAB nemico in volo Si hanno colpito Compagno tornato in campo Ben fatto Iro una semtex Maschera antigata, qui. Soldato nemico in arrivo. Rete nemica di nuovo in sicurezza. È finita. Attacco aereo ostile in arrivo. Mi muovo. Amico in terra, è ferito. Mi sparano addosso. Arriba l'attacco in sicurezza è un alleato. Usa una carica perturante! Mi sparano! Devo curarmi! Occhio, la finestra di ritorno sta per chiudersi. UAV alleato in zona. Gatti in avvicinamento. Attenzione in alto. Vado qui. Ne restano solo venticinque. l'attacco in alto. Gatti in all'opera. Gatti in alto. Lo scubb. Gatti in alto. Gatti in alto. Gatti in alto. E' un altro. Guarda. Gatti. Gatti. Attacco aereo alleato. Vado qui! Attenzione! Negli operatori di un'implicità traccia. UAV nemico attivo. UAV nemico in volo. UAV nemico in volo. UAV nemico in volo. Metto una mina! Gatti in movimento. Quella mina di prossimità. La zona sicura è piuttosto lontana. Meglio affrettarsi. Stractando. Stractando. Viro masente! Per rete terreno, consiglio di puntare subito alla zona sicura. C'è molta strada da fare. Siate rimasti in dieci. Dai, ilus... Eri tra gli ultimi cinque rimasti.